Buongiorno ragazzi, diciamo che il mio amore oggi non è di quelli migliori, dopo la partita di ieri sera, ho visto una Juve brutta, una Juve che non mi è piaciuta, sembrava di vedere la Juve, ahimè, del benzinaio, giocatori che andavano per i fatti loro, Danilo che era spaesato, un chiesa che io a 60 milioni non avrei spesi, con tutto rispetto per il calciatore, Bonucci che secondo me, quello che ha dato, ha dato, secondo me con la Juve ha finito e se ne dovrebbe andare a giocare altrove, niente ragazzi, ho visto una squadra che senza gioco, che non sapeva cosa fare, senza idee, e niente ragazzi, penso che il migliore in campo sia stato Morata, Demiral, Demiral mi è piaciuto tantissimo, ma soprattutto mi è piaciuto anche Arthur ragazzi, che secondo me ragazzi è un grandissimo, un grandissimo centrocampista, voglio dire le ultime due cose ragazzi, poi il video finisce qui, che secondo me, ripeto, un allenatore, con tutto rispetto per andare a Pirlo, un allenatore che non ha mai allenato, secondo me, non si doveva sedere sulla panchina della Juventus, però ragazzi, come sapete Pirlo è un raccomandato dal signore, e adesso arriva il signore, che si chiama Andrea Agnelli, ecco, io vorrei fare un appello, per me da oggi inizierà l'hashtag Agnelli out, perché io dico solo una cosa, Agnelli sei la rovina di questa Juventus, sei la rovina di questa società, dimettiti, dai la Juve a chi veramente ha passione e ha voglia di investire, ma soprattutto ha voglia di vincere e dominare in Europa, quindi l'unica cosa che dovresti fare, dopo le puttanate, le stronzate che hai detto, dove hai ridicolizzato migliaia e migliaia di tifosi dallo Juventus, dicendo che arrivavano giocatori da Juve e sono arrivati tre merde, con tutto rispetto per i giocatori, ma soprattutto che la Champions non era più un sogno, ma era il primo obiettivo, io penso ragazzi che quest'anno, secondo me, non passeremo neanche i gironi, se la Juve è questa, ragazzi, non passeremo neanche i gironi, e quest'anno, quest'anno c'è da soffrire, c'è da ridere, perché io, ahimè, e lo dissi in delle live, io, secondo me, mi dispiace per Pirlo, ma sto intravedendo purtroppo la Juve degli ultimi due settimi posti. Quindi ragazzi, ripeto, Agnelli, secondo me, dovrebbe andare via, dovrebbe dimettersi, dovrebbe dare la Juve a gente competente, che ha voglia di vincere, ha fame e ha voglia di investire, perché purtroppo ragazzi, con questa squadra, e mi dispiace anche per il signor Cristiano Ronaldo, che io, se fosse stato Ronaldo, me ne sarei andato, questa squadra ragazzi, quest'anno non andremo da nessuna parte. Secondo me in Italia siamo ancora la squadra più forte, però dopo ieri sera, con il Crotone, contro una squadra già retrocessa, è fare una grandissima figuraccia. E poi, io non ho digerito questa espulsione di Chiesa, perché il signorino Chiesa, pure la Fiorentina, faceva questi calcetti. No ragazzi, no, no. Io, ragazzi, 60 milioni dispendevo per un grande centrocampista. L'acquisto di Chiesa è stato l'ennesima dimostrazione che Paratici è un incompetente e la società non c'è, non vuole investire e soprattutto Agnelli, ragazzi, ripeto, della Juventus, sarà un bravo imprenditore, ragazzi, ma della Juventus non gliene frega nulla e non gliene ne è mai fregato nulla. Ragazzi, ditemi la vostra, mettete un like, iscrivetevi al canale, iscrizione alla Juventus Crew, vi metterò i link in descrizione dei membri della Juventus Crew, condividete, ditemi la vostra e niente, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto.